Vincenzo, massima allerta, massima vigilanza, sono dei giorni importanti, questi 12 giorni sono fondamentali, dobbiamo rispettare tutte le regole, uscire il meno possibile, dobbiamo rimanere a casa, uscire solo per andare in farmacia, ma vedo che i carottesi sono stati seri, stanno rispettando il loro dovere, pochissime persone, sono momenti importanti, in cui è importante essere uniti, io sono sicuro che ci siamo andando bene, però dobbiamo rispettare le regole, dobbiamo rimanere a casa e uscire solo il minimo indispensabile, i carottesi stanno rispondendo, un po' tutta la penisola sta rispondendo, ci sono stati sanzioni? No, no, assolutamente, io sono ottimista, sono realista, nel senso che dobbiamo fare tutto il nostro dovere ora, ma sono ottimista, quando finirà questa situazione? Va bene, non lo sappiamo questo, comportiamoci bene e sono sicuro che tutto si risolverà più presto, però dobbiamo comportarci bene tutti quanti e rispettare le regole. E resta a casa, va bene, grazie. Assolutamente, ce la facciamo, però dobbiamo rispettare le regole.